Dice no, se mi arriva un avviso di garanzia lo farò decidere ai cittadini. Oh bene, e chi sarebbero questi cittadini? Ma come? Sono quelli che stanno e partecipano al blog di Grillo? Minchia! 2 milioni e 600 mila romani tutti sul blog di Grillo, magari così alimentiamo un po' le pubblicità che lo finanzia il blog di Grillo. Dice no, ci ha spiegato nel confronto, dice no, 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 aspettate, se non basta il blog di Grillo useremo il sito del comune di Roma, minchia! E voi immaginate tutti, ma se ti ha eletto il popolo, come fai a far partecipare il popolo attraverso il sito? Di che cosa stai parlando? Non sai neanche di che cosa stai parlando, il problema è che te lo dovresti porre prima il problema alla luce di quello che sta accadendo. Se ti arriva un avviso di garanzia o meno, te lo dovresti porre prima. Però loro sono così e loro vanno in giro e ci vanno a spiegare che noi facciamo schifo e che loro sono tanto belli. Io penso però, ve lo dico molto francamente, che in questi giorni, in queste ore, le persone stanno cominciando a capire come vanno le cose. E che al di là del bello o del brutto, il problema che ha questa città è che deve immediatamente ripartire, perché è una città al collasso.